Musica Io parlerò oggi di sfide in sanità pubblica a partire dall'interdisciplinarietà. L'ambiente di oggi, in particolare l'ambiente dei big data, ci offre delle potenzialità incredibili e noi dobbiamo sfruttarle al massimo per andare verso una salute integrata che preveda anche la tutela di altri ambiti di salute, per esempio la salute degli animali, per esempio la salute dell'ambiente, delle piante, dell'acqua e dell'aria. Oggi noi abbiamo tutti gli strumenti per collegare queste informazioni e dobbiamo farlo perché non possiamo più permetterci di fare errori come abbiamo fatto in passato. In più parlerò di un altro aspetto dal quale non possiamo che doverci difendere. Parlerò della comunicazione, parlerò dell'epoca della post-verità e di come purtroppo alcune notizie mal gestite possono distruggere quello che è stato fatto in anni e anni e anni di durissimo lavoro e di impegno per la salute di tutti.